Per i più distratti sono delle semplici panchine disseminate qua e là in giro per la città da Piazza Maria Immacolata a Piazza Castello, ma le panchine letterarie sono ben altro. È un progetto chiamato Talassà, ideato dall'APS Il Gazebo Esagonale, realizzato dal collettivo della Factory and Made in Italy, in coordinamento con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Taranto. Sono otto le panchine installate, ognuna ispirata ad un'opera letteraria legata a Taranto, tutte decorate da artisti pugliesi. Sono a forma di libro aperto e di onda, munite di porta USB per la ricarica dei cellulari. Per una settimana il Museo dei Tarantini Illustri Mudit ha ospitato un percorso multimediale dedicato proprio alle panchine. Siamo riusciti a farlo provando ad essere quanto più legati alla nostra realtà a Taranto, a cui noi siamo molto legati, città di cui siamo assolutamente innamorati. Proprio per questo motivo la panchina è letteraria, per cui aveva per forza un richiamo al libro. Ma abbiamo voluto anche dare un richiamo al mare, a Taranto, e quindi c'è la parte posteriore che richiama un'onda. È una panchina diversa dalle altre panchine letterarie, perché ha una doppia funzione, forse anche tripla funzione, perché oltre ad avere due sedute diverse, una più comoda, una classica e una più comoda, c'è anche la possibilità di ricaricare il cellulare con una presa USB ricaricata da un piccolo pannello solare. Quindi è una cosa nuova, perlomeno.